Il libro di Petros Marcaris Il commissario Caritos è di Atene, vive ad Atene, risolve questi gialli, naturalmente non vi racconterò nemmeno una parola delle trame, ma come tutti i gialli ci sono degli omicidi, ci sono dei sospettati, c'è l'inchiesta, sono inchieste di tipo poliziesco. Qual è la cosa che rende questi romanzi piacevoli? Il commissario è pienamente inserito nella città di Atene e il nostro Petros Marcaris non ci racconta soltanto la storia, la trama del giallo dell'inchiesta, ma ci racconta molto bene la vita che c'è a Atene. Il commissario ha una moglie, quindi ci racconta anche quando torna a casa, le serate con la moglie, c'è una figlia, sposata, eccetera. Vive pienamente questa città che conosce, ci racconta alcune caratteristiche della città e nel corso degli anni vari romanzi sono collegati a quello che ad Atene succedeva. C'è stata la crisi, ci sono state al suo tempo le Olimpiadi e quindi è uno spaccato della società greca, visto ovviamente una golazione particolare. Noi ci possiamo ritrovare delle vie che magari abbiamo già conosciuto, per chi è stato in Grecia o ad Atene, troviamo dei piatti, troviamo insomma una descrizione di una società. Ecco, questo è il bello di questi romanzi, sono gialli che a differenza di alcuni gialli svedesi, estremamente complicati, dove la quantità di personaggi è enorme e spesso ci si può anche perdere. In questo caso, no, beh certamente sono complicati perché le inchieste di pulizie sono complicate, se non sarebbe neanche bello leggerli questi libri. Però, diciamo, sono mescolati con un racconto di una società. Io come li leggo questi libri? Allora, Marcadesi l'ho scoperto credo 5-6 anni fa e io ogni anno d'estate mi compro uno o due libri. Guardate, ne ho raccolti un bel po', i titoli sono tutti pubblicati dalla nave di Teseo, che è una bella casa editrice, e sono molto belli. È una lettura, beh, per quanto mi riguarda, estiva, dopo ciascuno la può leggere nei tempi che vuole ovviamente, però è molto bella. Quindi, ripeto, Petros Marcadesi ve lo consiglio, questo è il libro che ho quasi finito di leggere, quindi ho voluto fare questa recensione, prima ancora di finirlo. Ripeto, uno o due all'anno è una piacevole, è un piacevole per me, è un piacevole appuntamento, perché io quando viene estate passo sempre per la stessa libreria e sicuramente trovo, fra le novità e nel reparto gialli, trovo un nuovo romanzo di Marcadesi. Ne ha pubblicati vari e vediamo se c'è quanti ne ha pubblicati, mi pare di averlo letto su questo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, c'è dentro, trentasette, insomma ci sono quasi finiti, li ho quasi letti tutti quanti. Arrivederci.